Lo ridici diciamo, partiamo, pronti, 3, 2, 1, via, piano, eh, ragazzi del pedale, viva la gran bombina, piano, buona passeggiata a tutti, piano, siete 102, 103, quindi con voi arriviamo a mille insieme agli altri che sono partiti prima. E arriviamo a mille, carica dei mille ad Ancona, grazie alla partecipazione di tanti miniciclisti accompagnati dai loro familiari, in attesa di collegarci con la corsa in diretta. La fontina McDonald's dal primo all'ultimo, senza ordini arrivo, senza classifiche, ricordiamo la gran fontina McDonald's, una partecipazione colorita con bambini, famiglie, e non solo per riappropriarsi delle strade cittadine di Ancona, lontane dal traffico automobilistico, dove in questo momento dal primo all'ultimo sono tutti vincitori. E fa piacere vedere una grande presenza di bambini, che chissà se li rivediamo un domani, protagonisti, perché no, in occasione della gran fontina del Conero... Anche la campionessa del mondo, 97 Sansebatian, Alessandra Cappellotto, applaude l'arrivo dei ciclisti in erba e delle loro famiglie.